Si vanno completando le rose delle due abruzzesi impegnate nel prossimo campionato di Serie 2 di pallavolo. Particolarmente attivo il Pinedo che nel vecchio roster ha mantenuto soltanto il palleggiatore a Matteo Paris, il centrale Enrico Basso e il libero Giancarlo Pesere. Partiamo dall'ultimo colpo, quello di Henry Miranda, opposto cubano, classe 97 per 191 centimetri di altezza. Si aggiunge al connazionale William Padura Diaz, giocatore esperto dal curriculum prezioso. A formare la batteria degli schiacciatori ci saranno lo statunitense Conrey Chavez nel 2019 in Superlega a Verona, Gianluca Lollisci, tanti campionati di A2 sulle spalle e l'abruzzese Paolo Di Silvestre, proveniente da Castellana Grotte. Al centro lo sloveno Rok Ieroncic e il croato Kruno Nikacevic daranno centimetri alla squadra del riconfermato Giacomo Tomasello. A chiudere momentaneamente la rosa l'altro libero ex Tuscania, Alessandro Sorgente. Si è mossa bene anche l'Ortona, dopo le tante voci di abbandono, l'impavida ha lasciato intatto il telaio della promozione. Marshall, Ferrato, Bertoli, Fabi e Benedicenti con innessi di sostanza e qualità. In posto due torna a manovrare Diego Cantagalli, ancora suo il record di 46 punti realizzati nella passata esperienza ortonese. Al centro le novità sono Stefano Patriarca, tante stagioni in A1 e il giovane Gabriele Tonnini la passata stagione a Sabaudia. In zona 4 poi, manca però l'ufficialità, dovrebbe portare tutta la sua esperienza Francesco Del Vecchio.